Il grande fratello. Dopo l'esperienza nella casa di Cinecittà, Rodrigo Alvis è sparito dai radar. Che fino ha fatto? Rodrigo Alvis ha partecipato alla versione inglese del grande fratello Deep, ma la sua esperienza è durata poco. L'eccentrico Ken Umana, che già aveva partecipato in qualità di ospita all'ultima edizione del grande fratello in Italia, condotta da Barbara D'Urso, è stato costretto ad abbandonare la casa del reality inglese dopo alcune frasi a sfondo razzista che avevano acceso le polemiche e a un non meglio precisato incidente. La comunicazione è arrivata direttamente dall'account Twitter del reality show. Dopo un ulteriore incidente, Rodrigo è stato rimosso dalla Grazie a tutti.